Di questo passo ci vorranno 69 anni per togliere le macerie dall'Aquila. È la desolante provocazione di Lega Ambiente che ha presentato macerie anno zero a 18 mesi dal terremoto in Abruzzo, secondo dossier per una ricostruzione pulita. Si è perso troppo tempo dietro agli annunci del Ministero dell'Ambiente, che stimava in 24 mesi il tempo utile per rimuovere le macerie. Abbiamo perso nove mesi, perché io ricordo, e lo scriviamo nel dossier, che nove mesi fa il tavolo tecnico aveva già individuato una ventina di sitidoni all'interno dei quali ci sono i sei siti che nove mesi dopo rispuntano. Lega Ambiente individua punti cruciali da cui ripartire. Prioritario è il calcolo del numero delle macerie che secondo le stime si aggirano su 4 milioni e mezzo, determinante poi l'aspetto della legalità. Si tratta di costruire uno schema, e sulle macerie questo lavoro si può fare da subito, che ci metta a riparo dai sicuri tentativi che ci saranno da parte della criminalità organizzata di entrare nel business della ricostituzione. Altro obiettivo fondamentale è il riciclo attraverso nuove tecnologie, quelle ancora sconosciute alla mafia. C'è una legge dello Stato, mai veramente applicata la 203 del 2003, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare negli appalti almeno il 30% di materiale edile da riciclo, di cui fanno parte le macerie. È fondamentale dare attuazione a quella legge. Lo debbono sapere i cittadini dell'Abruzzo. In questa regione addirittura gli inerti riciclati non sono persino nel preziario con cui si fanno le gare d'appalto. Il filone di riutilizzo dei materiali è quindi l'uscita preferenziale del dramma della rimozione delle macerie, aspetto che si scontra però con l'analisi dei costi. Molto spesso, e questo accade nel nostro territorio, la materia prima ha un costo magari che è inferiore rispetto a quello che potrebbe essere la materia da riutilizzo, diciamo, la materia prima secondaria. Questo è un problema che va assolutamente analizzato. Di fatto ad oggi solo 90.000 tonnellate di macerie sono state spostate nel deposito temporaneo, nell'unico attivo dell'ex Teges. Da qualche giorno è stato invece firmato l'accordo per l'attivazione del sito di Barisciano. Resta però aperto il problema più grande. I costi della rimozione delle macerie rientrano in quelli della ricostruzione. Grazie.